Yamaha 1070 al lago santo modenese come si può vedere buonasera a tutti e a tutte come si può vedere la macchina si comporta non bene benissimo adesso andiamo a fare una piccola prova di pesatura, un secondo solo metti i guanti perché se no non metti i guanti i mani se li fanno freddo ok a questo lavoro Yamaka, viesi, sentanta e poi sicilamente per quanto riguarda le stesse